Allora, l'onorevole Fedriga, non so se lei se lo ricordava, no, quell'omicidio. Adesso, al di là della vicenda giudiziaria, noi ci siamo tornati per riflettere su un clima, su una intolleranza che, diciamo, ci pare abbastanza evidente, poi evidente anche nelle parole del sindaco, una certa esasperazione, e in molti vi additano dicendo che siete voi che soffiate sul fuoco di questa intolleranza. Sì, io ricordo anche le sfilate del tempo, quando i fatti non erano ancora chiari, quando non si sapeva che la persona, l'assassino, perché di questo si tratta, però a sua volta era stato aggredito con un segnale strage, quindi quando uno spiega l'innamico ho visto però la Presidente della Camera subito prendere una posizione netta senza conoscere la realtà dei fatti. Non ho visto altrettanto da parte di queste persone altrettante sfilate, altrettante prese di posizioni su moltissimi altri fatti drammatici avvenuti nel nostro paese, se compiuti da italiani o stranieri indifferentemente. Mi sembra che sia stato utilizzato in modo strumentale. La cosa che oggettivamente risulta inaccettabile è che chi denuncia il problema, che oggettivamente c'è nelle nostre città, c'è nei nostri territori, esiste nelle nostre periferie, viene aditatto come quello che alimenta la confusione, che alimenta lo stato di tensione. In realtà sono le politiche nefaste portate avanti da una politica inadeguata che creano queste situazioni dell'arme sociale. Ricordo nella mia città Trieste una ragazza la scorsa settimana una tentata a violenza carnale, altrettanto a Gorizia, città a pochi chilometri da Trieste con una persona arrestata perché violenza su quattro donne. Insomma, esistono dei seri problemi. Perché esistono? Perché si è voluto proporre questo metodo folle della cosiddetta accoglienza diffusa. Cosa comporta questo? Queste persone che non sappiamo chi siano, sia ben chiaro, quando si parla di identificazione e noi sappiamo semplicemente che nel momento in cui sbarcano sul nostro territorio e vengono prese le impronte digitali, viene preso un nome probabilmente falso e tutti, se andate a vedere, dichiarano la data di essere nati il primo gennaio di qualche anno. Evidentemente quindi noi non conosciamo la storia pregressa di queste persone. Quindi sappiamo semplicemente dove si spostano sul territorio, se vengono identificati nuovamente, ma non sappiamo chi siano. La genialata qual è stata? Accoglierli un po' dappertutto. Così di impedire di fatto alle forze dell'ordine di compiere il loro mestiere e tenere sotto controllo una situazione che può risultare pericolosa. Noi abbiamo proposto, quando Romano diceva, devo dire, io rispetto tutte le posizioni e ovviamente non pretendo di essere la verità come pretendeva Renzi. Quindi non pretendo di essere il verbo. Pretendo di dire le mie opinioni. Però quando Romano diceva che voi non proponete niente, io ricordo al collega Romano, che sono sicuro perché è un attento parlamentare, che si ricorderà le moltissime proposte fatte anche con atti parlamentari, con mozioni per affrontare il problema. Si può dire che non si condivideva la soluzione, è legittimo, e lo rispetto se uno non condivide le nostre soluzioni, ma dire che noi parliamo solo e non proponiamo è una balla colossale. E invece sia inaccettabile raccontare balle in televisione. Sì, sì. A proposito di balle in televisione... In pubblico come vede è spontaneamente arrivato. No, ma mi fa piacere. Questa volta portate.